Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Google Taleale, eccoci qui di nuovo con Like e Dragon, riprendiamo dove ci siamo lasciati, gori gori! E niente, qualcuno di questi lo becchiamo per forza, vabbè dai, sto botto. Dobbiamo andare a lavorare un attimino, come sempre, ormai è nel nostro... Vai di... Mazzata di... Madonna mia, dietro al capocollo. Mi raccomando voi ragazzi, come sempre, vai di like, condivisioni e commentini per supportare questi video. Ok, quello non l'abbiamo dominato completamente, quindi andiamo a darvi una martellata così, sempre in avvicinia. Perfetto. E allora, siamo arrivati perché dovevamo andare... Ah no, ho sbagliato tra l'altro, potevo buttarmi nel parcheggio che facevamo anche prima. E... Datemi un attimo che forse conviene comprarci... Allora, difesa... Ah, punti esperienza in battaglia, però costa troppo al momento. Difesa... Schivata, vabbè niente. Eh, però teniamo conto che c'è quella che ci fa aumentare l'esperienza, eh. Potrebbe essere una cosa buona per livellare. Non male. Costicchi, al momento noi siamo un po' poveri, però. Mmh. Dai, dai, che ci sta un lavoretto da fare. Noi siamo qualificatissimi, guardaci in faccia. Ah, attenzione. Oh, questa è una brava persona, però. Ci aiuta, eh. Eh, abbiamo il... L'infermiere. Eh? Noi meno, però... Eh, perché è infermiere, scusa, eh. Hai visto? Hai visto? Piano piano. Oh. Eh, noi... Non abbiamo... Gran roba. Eh, quindi... Insomma, non c'è proprio affinità, eh. Però mi sa che qualcosa ci troverà. Sicuramente è qualcosa di imbarazzante, però va bene. Per quello che dobbiamo fare potrebbe andare bene. Eh. Ah, ok. No, ma che avvocato... Signora, mi scusi. Eh, vabbè. Eh, caggente, figurati. Caggente, non caggente. Ecco sta ma puli Gessi Ok ho capito Abbiamo ancora quello Stura Gessi Sospeso da anni quindi Alla prossima 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 Si si Ah Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Pian pian Alla prossima Ok Alla prossima 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 Vai Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Ehi Alla prossima Alla prossima Alla prossima Ehi Alla prossima 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 Oh Alla prossima 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 L'alcissima Proviamo Aspetta Aspetta Vediamo Esatto Prima di recuperare Un po' di cose Eventualmente Che fanno sempre comodo Salve Allora Vai dei piccioni Madonna non abbiamo fatto niente Almeno andiamo qua così non lo togliamo Non è vero Ahia Non si fanno male Ecco qua Vabbè facciamo così a questo Almeno per toglierlo Ne abbiamo uno in meno Che comunque è un attacco in meno Che subiamo Andiamo con lui Che è il boss Quindi magari Tra questi Che subiamo è ancora libero attenzione ok non benissimo questi sono resistenti non è che non è che è pure quello è bloccato a livello 1 quindi non possiamo andare più di quello e dai comunque basta trovare una chiave poi si fa tutto ah il casco è utile allora il casco noi qua che cosa abbiamo la testa questo che protegge veramente poco e allora difesa noi abbiamo in totale 48 37 39 mettiamola a namba è un po' il più debole tra virgolette anche se ha magia va forte a lui in realtà li potrei mettere perché noi di equipaggiamento poi naturalmente chi usa la magia è meglio dargli qualcosa de magico allora 1 2 questo qua era 4 5 ok è meglio poi abbiamo la maglietta solo difesa e destrezza agilità magia 3 le scarpe che ho io difesa 6 potrei darle a lui forse le scarpe conviene questo difesa ok questo questo va per solo quello forse le scarpe conviene a lui che aumenta anche un po' la magia perché alla fine penso che gli attacchi che fa siano magici quelli del del piccione i ruti allora noi siamo venuti da aspetta e fammi capire da qua no ok perfetto quindi c'è quella porta qua abbiamo visto e va bene almeno penso di essermi perso qualche parte c'è la mappetta lì sotto però sa com'è non è dobbiamo andare là quindi mi sa che conviene farci tutti sti sti uffici per dove possiamo passare insomma allora c'è questo qua che non se volete ah di qua però neanche perché qua è chiuso comunque no ok aspetta facciamo così facciamo che va bene così speriamo che va bene così più che altro possiamo eh no in queste in queste fasi di assalto non si può salvare se non trovi la zona di salvataggio che ti da lui salve allora salto piccionoso eh mega colpo magari ok ne prendiamo più di uno e vai di pestaggio ok eh forse eh eh c'ho paura di ritrovarmi poi a morirci male strade sono giuste aspetta perché c'è questa pesata sempre meglio vedere un po' dalla minimappa dov'è che possiamo insinuarci pure qua no qua dobbiamo e possiamo andare solo dritti queste porte sono tutte chiusa bento mangiato a metà non benissimo aia questo è cattivo eh questo mi sa che è cattivo eh qualche volta devo usare pure gli altri bonus però allora meglio questo che li riduce la difesa ma forse è meglio così ora noi abbiamo eh ci sta signori almeno abbassiamo la difesa a lui noi aumentiamo un pochino ugualmente se l'ha fatto insomma proviamo ma aaa incolume buono o così no? abbiamo finito i punti azione madonna questo ci mettiamo diciamo un anno e mezzo a batterlo aia questo vabbè gli fa solo l'attacco normale però non mi viene niente calma è pure io grazie a tutti che è questo non ci la nella Porca troia Mammo che me l'ha messo KO Come funziona Ah vedi Invece di per 1 è per 0,3 Vaffanculo Guadagna molta meno esperienza Eh per poco Mezzo turno Maledizione Allora Tutta da lavoro Lui sta senza niente Difesa Cure Destrezza Anche se cure Faceva più l'altro Ma l'altro Insomma ci dobbiamo arrangere in un modo o nell'altro Siamo venuti da là Quindi dobbiamo andare qua Però conviene pure Prima di tutto Sì ma devi spendere un milione di dollari Per Per poi avere Ma io ero entrato qua randomico No Non benissimo Ah però Si è agganciato Eh abbiamo lasciato un attimino il policeman Mi scusi Ah però Magari già Yudadogura E invece hai visto Vabbè di poco però Dai No Cazzo Vedi qua ci stavano le cure E niente Peccato perché Potevamo Risparminarcela Potevamo Risparminarcela Allora Allora Andiamo dei piccioni Che sta sicuri Ok Ok In linea teorica Ok Basterebbe Quello base Ora Si fatica Si fatica Non poco però Eh Già che ci siamo Tanto qua non credo che Eh vada Ci stiamo Ne approfittiamo Eh la chiave non ce l'abbiamo Um Eh Trela Non Allora Un Uh 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 bella cagata non ho fatto assolutamente niente vabbè questo asalto è sempre uguale e dobbiamo cercare di fermare lui che è abbastanza problematico un po' più sicuro è abbobriato pure l'alto ora con io Oh mamma santa Resiste Vai dei piccioni Olè Vendicati vendicati Cazzotto in bocca e passa la paura Perfetto Allora Prima Qua non c'è niente Pare di no Direi di andare prima in quest'altra stanza Controlliamo Ecco se c'è Della roba da prendere Sempre cosa buona e giusta Allora Cotta di maglia E scusa Non si può usare A meno che non sia un oggetto che possiamo Però in linea teorica Allora Giustamente Non è qua Non è qua Non è qua Non è qua Ah è un accessorio Ok Allora 20 ps E 10 pt Inventa la difesa Beh lui è quello che mi sa che c'ha la difesa peggiore No 54 No lui 46 Attenzione Vai Ok Andiamo Porta Solo quella Ci abbiamo a disposizione E Sì Però Scusate Signori Naturalmente Io quando posso Tanto se non rispondo Non risponano Meglio Approfittarne Andiamo Andiamo Seguitemi Seguitemi Invece di impallare le porte Non usare Ma io Giusto no Non posso neanche salvare Quindi Un momento La granatina Eh allora Ci deve essere Sì Sì Sarpe antinfortunistiche Allora Dai Andiamo sempre da lui Agilità Magia Però Eh Attenzione 636 636 Andiamo Quindi torniamo Di là E vediamo Se c'è Un passaggino Segreto Che era La statua Immagino Si vedeva Che era Molto Via Premi Premi Magica Andiamo Va Adesso Allora Controlliamo Sempre Esatto Possiamo Raccattare In giro Uno ci prova Sempre Allora Allora In realtà Qua si sale Ma quasi Scende Posso Noi dovremmo salire Però Anche per capire Dove che risponiamo Qui dove c'era Solo quello Ah Una cassaforte Scusate Che muochi E la fase Apri La giacchetta Allora Chi è che sta Senza giacchetta No La giacchetta Ce l'abbiamo Tutti Si Questa aumenta La difesa A 12 Questa 4 Quindi Mettiamo Direttamente Questa Chiusa Ok Scusate No Dove cazzo Vai Porca Puttana Guarda che Rincoglioniti Allora Allora Va bene Anello Della Salute Allora Lo possiamo Sempre equipaggiare Dovrebbe essere Un accessorio Allora Lui l'anello Della salute Già ce l'ha In realtà Quindi Beccatelo pure tu Solo questa porta C'è Era L'altro Evidentemente Si era Dove abbiamo Combattuto Col tipo Eh cazzo Però così Il legame Non aumenta Perché Allora Aspetta Perché Qua Qua C'eravamo Stati No In tutte le stanze Perché Da qua Avevamo Scusa Fammi Qua Eravamo Entrati Cioè C'eravamo Passati No Qua avevamo Recuperato Le Cassettine Queste erano Le stanze Che avevamo Che non avevamo Potuto vedere In realtà Questo scusa Ma era quello Dove stava Ok E le scale Va bene Va bene Eh no Volevo ricontrollare Poi Non so se Magari Perdo qualcosa Perché effettivamente È un po' Tutto uguale Le mosse perdono Loro Ma me Perdo pure Io Quindi E Vabbè Qua Non abbiamo Niente Nella nostra Cassa Quindi Vuota In modo Clamoroso Quindi Tutto Misterioso Vediamo Che fa 30 Pitti Per il Distanguamento Aggressivo Passivo Scusa Quella è un po' Sa cenere Ok E Allora Salva Non possiamo Salva Che poi Di solito Cioè di solito L'altra volta C'era il coso Per salvare Qua non so Se non te lo fa fare Perché poi comunque Rimani bloccato Qua dentro Nel senso Non puoi più Riuscire Quindi se magari Arrivi E ti rompo Nel culo Ti rendi conto Che non ce la fai Comunque è un problema Perché non puoi Accustare niente O livellare O altre cose Aia Sono ritornati tutti Questi ci fanno male Eh La vedo maluccio Allora parte lui Secondo me Eh Li abbassiamo Un po' La difesa E cerchiamo Di Cazzo Non li abbiamo Fatto Niente Qua finisce Qua finisce Molto male Ha aumentato L'attacco No bueno Ha curato Ci riproviamo Ok Almeno uno Lo siamo levato Debole Alpestaggio Ferato Insistiamo 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 E' cattivo Però per il momento Magari Allora Facciamo una cosa Eh si Perché effettivamente Non so Se ce la facciamo Un po' Così Ok Perfetto Mi lascia cadere Non c'è Perfetto No Eh Questa Non funziona Vabbè Facciamo Faccio un attimo Questa Così Poco Efficace Dobbiamo Dobbiamo abbassare La difesa Ok Ok Ora vai Di Mega Colpo Possiamo Fare Uno Non funziona Non c'è Non c'è Questo Non c'è Meno Vai di nuovo Corfuoco No Non c'è Non c'è Non c'è Però Per carità Hermes Tiene suo Però Di nuovo Rutto Scostante Magari Riusciamo a dargli No Diciamo mare No, sbagliato Possiamo abbassarli ancora di più la difesa Prolungato, ok Ma è che questo si rivela l'O3 e dici porco 2 Con tanta difficoltà ma Ce l'abbiamo fatta, a meno male che hanno livellato un po' tutti No, 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 no No, 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 no Attenzione Patriarcho, eppure tu sei anziano Pensa se te spazzano via pure a te con La siringhietta No, 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 no No, 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 no No, 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 no Grazie a tutti 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 Eh vediamo se Grazie a tutti 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 Condividete a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti